Siete mai stati a Vaprio d'Adda? Qua ad Avaprio, a Concesa di Trezzo, c'è un suggestivo itinerario lungo il Naviglio Martesana. Complici una bravissima guida, abbiamo ammirato la casa del custode delle acque, Villa Melzi, e ammirato il parco Adda Nord. Seguitemi in questo percorso con video e foto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.